ah che bel cielo oggi ragazzi allora che dici capitanicina io le volevo parlare di un acquisto che ho fatto c'è in senso una cosa che mi ha lasciato il mio tris 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 un altro tris o che? quadris savoro io non so che è questo non ho capito bene ancora che serve qua amazon c'è scritto pokeball cioè no in realtà c'è scritto dentro un po' rotto però non lo so io la volevo vendere aspera aspera leggo zockeball questa è una zockeball aaaah zockeball ho letto male no raga c'è capita sai quale sarebbe il colmo? che questa zockeball non so se ti metti a rire che atturassi zockeball cioè i zockemon sarebbe il colmo sarebbe il colmo veramente il colmo guarda un po' un zockemon proviamo ma svolta che esistono i zockemon non esistono i zockemon comunque allora mentre io le faccio le offerte ok allora camioncini ma questo qui te lo vendo dai mi so che è una zockeball ti faccio lo sconto sai perché non lo conosce nessuno mille euro mille euro e vabbè non lo so che quanto oddio un pokémon un zockeball che c'è un zockeball oddio 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 avviciniamoci con calma con molta calma aiuto piano prendi una zockeball prendi una zockeball prendo questo fermo ti tiro un sasso io ho una cazza ho missato prendi ti tiro la zockeball no aspetta devo prendere questo oddio abbiamo paura gli andiamo addosso ma infatti stiamo scemi oddio si sta sparando tiro la zockeball ma che cacchio ti serve vai non cazzo l'abbiamo preso l'abbiamo preso è toglie la cazza di zockeball vai è un pokémon pokémon da cacchie zockeball zockeball raga è proprio va la vorremmo raga l'ho preso non pensavo c'è capitacina ho un zockeball doveva il mio zockeball èicit tango questo è una cacchie di zockeball e contiene un pokémon Ma adesso intraprenderemo un viaggio Ma che cacchio Dai vuoi prendere altri Ma lì c'è un'altra Zorkyball Ma allora è questo che dovrebbero costare il cestese E si trovano per terra Ecco Bart Vabbè La Zorkyball ce la teniamo che non si sa mai Comunque la prendiamo carina pure il blu raga c'è Ma niente questa è più rara No in realtà è il più giallo Raga Ci sono altre Zorkyball No ma c'è lì anche un altro Pokémon Hatsukumalata Ti provo io Non posso dire Non l'ho preso No si libera L'ho intanto Io ho rosto un'asta È entrato dentro È entrato dai Raga ma se io ti puoi provare a liberarlo Ha funzionato Ehi Gianni mi vuoi bene ovviamente No Mori 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 prendilo Preso Preso bravo Preso Non è bene Vedi a una dei Pokéball Queste sono le due rimanenti che non abbiamo usato Infatti ce ne abbiamo troppe poche Guarda un altro Pokémon Ok parla Ok parla 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 No raga parliamo La droga fa male No raga Continua Lì c'è un altro Pokémon Ti lancio il Charizard Charizard attacca Garizard È un briado Charizard Funzionano bene queste Pokémon Funzionano bene queste Pokémon Zockeball 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 Eh Bart Zockeball Lo prendo Lo voglio come mio amico Adesso non abbiamo preso Ok 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 raga aspetta Aspettate Io vedo una cosa lì Un Pokémon L'ho colpito Sono fortissimo Ma questo non l'ha letto che cos'è Che cos'è Non l'ho visto È un gran Q No si sa Ma c'è scritto qualcosa Se leggete Se la gnocca Tu No Se Il tesoro Vabbè Già mi interessa Se le Pokéball Tu vorrai Zockeball Zockeball Nel buco ti infilerai Forza È scritto che Per battere Ci servono due Pokéball Guarda un po' che abbiamo Due Pokéball Oh no C'è il Gianni Infilagli la cula Ok Al mio mio Abbiamo preso il Gianni Non c'è più Gianni Ok Ok ragazzi Che ci sta qua dentro Ok È stato un attacco Nemico del meteorite C'è un Pokémon Ha colpito il Pokémon Lasciate perdere Mi hai spaccato gli occhiali Ok Ti chiamole fuori Daran tan 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 Non mi ha toccato Questo ragazzi è Bart 2.0 Non capisce dove è Non sente un cams È caduto Aiuto 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 Facciamo rotolare Bart Il nuovo film No aiuto Concentriamoci sulle Pokémon Dai Bart è la droga Bart è la droga Abbiamo scoperto Abbiamo scoperto Che questa roba Possiamo conquistarci il boss Cioè dobbiamo tirarla addosso al tuo boss Infatti Quindi Bart Eh Ah Ehi Carriola Gemno 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 Metti la roba dentro Gemno Ma magari ci abbiamo preso E adesso bestemmiamo tutti insieme Porca No Ma lei è una cagliola Aspetti eh Ecco Allora Abbassi Abbiamo notato il boss Ecco il boss Ma lì c'è un boss No ma Tutte quelle boche Non neanche basta Non bisogna prenderne altre Ma quelle che cosa sono? Mie armi Anzi la sua è quella rossa Ecco grazie Ok Prima proviamo a affrontarla con le boche Poi possiamo alle armi Prima proviamo alle armi Ok Ok Vai Lancio del sasso È già morto No ma È ancora vivo Non è È ancora vivo Il boss è lo scivolo Cacchè è vero No ragazzi ma questo è lo scagnazzo Ok possiamo alle armi Vai Fanno alle capare Fanno alle capare Din do do Fuori strosso Cazzo mi sta neggiando un raggio Siamo l'ottima tecnica Di Cazzo questa è una buona portina No ci provo io Ci provo io Ok Basta Vado 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 io Vado io Vado io No vado io Vado io Voglio andare io Andiamo insieme Basta Vai Sulle mani Ok Ok Lei registri però Ma cosa registri? Penso io Entro io Ok Adesso tutorial sul commentare nei buchi Mi insegna tutto il signor Bart Ok Adesso vai dritto genio Ok Vai dritto Ok Ti guido io Vai Vai Bart Vai dritto C'è una pala Dritto dritto Bravo Annoce Chiuditi annonce Si sta che cosa sta succedendo Robo dai vai dritto Atento Alla mina Robo vai dritto Ci vede un cazzo Robo Vai dritto Adesso carica Vai No Ti ho fatto Di là Adesso Dai le testate È vivo lei Sta bene? Forse Possiamo dichiarare il pokemon sconfitto O noi sconfitti Va bene Può uscire lei Dai forza Ok Faccio io Ok Ciao ragazzi C'è il copyright Paradise Va bene Adesso vi salutiamo uccidendo Facendolo fatale C'è il boss Fatale Perfetto Ok Lasciate like Iscrivetevi al canone Attivate la campanina Se volete i prossimi video Sui pokemon Ah si Borgmoz Non pensate che i pokemon Sia uguale a Borgmoz Perché non è assolutamente vero E niente Vi saluto Ciao Ciao Praga Grazie a tutti.